PMI Day, spazio imprese, banca di carasco. Allora, dunque, che cos'è il PMI Day? Il PMI Day è... sicuramente non è un convegno tradizionale. Il PMI Day è... non è una conferenza. Allora, il PMI Day è... non è una vetrina. Il PMI Day è... certamente il PMI Day non è un dibattito teorico. Il PMI Day è... non è una tavola rotonda. Effettivamente non vedo un tavolo, ma solo delle sedie. E una di queste sedie è la vostra. E vorrei che voi la occupaste. Perché è importante il contributo di tutti voi per scoprire le esigenze, le necessità comuni e la forza che riusciamo a mettere insieme. Ed è proprio partendo da questa forza e non dagli interessi personali che si trovano risposte nuove a nuove sfide. Perché parlare del futuro delle aziende di questo paese vuol dire parlare del futuro del nostro territorio. Insomma, il PMI Day è... quello che riusciremo a fare insieme.